Ho provato a chiamare i Luizi di Bologna tutto stasera che sto chiamando Luizi, ma è irreperibile Luizi Tiago Motta, Tiago Motta, Tiago Motta, Tiago Motta che voleva battere l'Inter Una difesa che ragazzi, la miglior difesa del campionato, ma cosa vuoi parlare, ma cosa vuoi parlare Adesso però voglio vedere da domani quale situazione trovate, voglio vedere che spulciate, che cosa trovate su questa partita Sono curioso adesso di vedere a che cosa vi aggrappate a questa partita, ma sai come sono curioso, sono curiosissimo Voglio vedere a che cosa vi aggrappate da domani Andate con la lente di gandimento, hai registrato la partita, Gobbo, Zazzaroni, hai registrato questa partita Sabadini, l'hai registrata, eh? L'avete registrata? Ok, stanotte dovete stare lì a guardarvela tutta quanta Un'altra volta per trovare qualcosa, qualche altro, qualche altra Marotta League Voglio vedere cosa fate stasera, voglio proprio vedere cosa trovate Avanti, dovete stare tutto stanotte a riguardare l'Inter e trovare una cosa per dire domani la Marotta League Avanti, avanti Ho, 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 ho